Non Cobra, ma alcuni singoli esponenti di Cobra. Non Cobra come movimento nel suo complesso. Cobra non appartiene ad alcun mercato dell'arte. Io mi oppongo alla commercializzazione dell'arte come ho sempre fatto. A quel tempo sarei stato felice di presentare e vendere le mie tele Cobra per un centinaio di fiorini. Mi sarebbe piaciuto molto se un gallerista fosse venuto a dirmi ti compro una tela per cento fiorini. Lei non era contrario alla commercializzazione dell'arte? No, perché il danaro per me significa libertà. Guadagnare centomila dollari mi permette di comprare tutto il materiale che voglio. Dipingere è diventato molto costoso, perlomeno se si usano materiali di buona qualità. E ci si può permettere una libertà simile solo se si ha abbastanza danaro da ordinare il materiale senza preoccuparsi di costi. Il mio momento di maggior soddisfazione è quando il camion arriva davanti a casa mia e scarica tele e tubi di vernice. L'aspetto più degno di nota è che quasi tutti i membri del movimento sono diventati molto famosi in seguito, a prescindere dal nome Cobra, perché il movimento è stato dimenticato per molto tempo e ha cominciato ad attirare l'attenzione negli ultimi dieci anni. Eppure tutti i membri di Cobra hanno avuto successo grazie al loro talento, perché se non l'avessero avuto non avrebbero mai incominciato. Penso che sia innanzitutto una prova della loro lucidità se hanno saputo sviluppare una concezione dell'arte. sarebbero potuti diventare noiosi accademici e membri di un qualche circolo di artisti. Invece hanno mantenuto un'idea dell'arte e del suo ruolo che è stata concretizzata anche a livello sociale. Cobra è nato come una rivolta alla restaurazione del dopoguerra, una protesta contro l'establishment sociale, politico e culturale. E molti anni dopo il movimento Cobra è diventato esso stesso un pezzo da museo, un'attrazione turistica, una merce di scambio, un elemento ben conservato dell'establishment. Ma è altrettanto vero che Cobra in Olanda ha aperto la strada all'arte moderna. Lo spirito di Cobra, la sua energia di rivolta anti-autoritaria, spontanea e creativa, ha dato grande stimolo al cambiamento nell'arte, nella cultura e nella società olandese. Siamo qui per girare un documentario sul movimento Cobra. Significa ancora qualcosa per lei? Sì, è stata un'esperienza molto bella. Mi pare di ricordare... ...in che anno è nato Cobra? Nel 1948? Nel 1948? ... ... Grazie a tutti. Grazie a tutti.